buona giornata amici di mercato tale come oggi c'è stefano steccanella direttore commerciale di rosi buongiorno stefano buongiorno buongiorno giancarlo allora siamo collegati con castelnuovo fogliani dico bene esattamente provincia di piacenza quindi dove inizia nei colli piacentini ho capito siete al fresco o al caldo? caldo è una parola reduttiva diciamo che ci sono temperature africane vabbè ormai è quasi agosto insomma non lamentiamoci finalmente è arrivato questo caldo perché a un certo punto sembrava quasi che non ci sono assolutamente d'accordo fine settimana in spiaggia e durante la settimana in aria condizionata quindi caro stefano allora quest'oggi dobbiamo con te fare come tutti gli altri tuoi colleghi che ti hanno preceduto con gli altri tuoi colleghi concorrenti che ti hanno preceduto e quindi dobbiamo esaminare che cosa è successo nel vostro primo semestre e che cosa c'è in servo per il secondo semestre che concluderà il 2024 e quindi io smetto di parlare ti do la parola immediatamente ti chiedo allora come si è concluso questo primo semestre del 2024 per voi di rosi allora è la risposta per forza di cose deve essere un po' articolata perché non è stato un semestre è un semestre complesso è stato perché perché dopo l'inizio con il freno a mano tirato pesantemente che faceva presagire scenari catastrofici diciamo e non ho esagerato nell'utilizzare questo termine nel senso che veramente si prevedevano negatività a doppia cifra con la doppia cifra che non era uno quindi voglio dire tutti nel settore ci siamo un po' preoccupati metto cosa sta succedendo ci aspettavamo un contraccolpo dalla fine dei bonus da tutta la situazione si è venuta a creare anche perché sono un po' di anni che ci barcameniamo tra alti e bassi incredibili dopo il covid poi c'è stato il 110 ci sono state una serie di situazioni la guerra ci sono tante una serie di situazioni che hanno creato delle oscillazioni violente del mercato quindi sapevamo che sarebbe stato un inizio difficile perché quando tu stacchi una spina come quella del 110 quindi con centinaia di miliardi che sono stati messi nel settore dell'edilizia soprattutto è chiaro che le cose sicuramente avranno una frenata c'è però da dire che dopo un gennaio febbraio e anche un marzo abbastanza terribili aprile e maggio e anche giugno hanno cominciato a assegnare dei segni positivi e soprattutto anche abbastanza solidi cioè quindi non derivanti da picchi quindi come se il lavoro effettivamente si fosse stabilizzato e abbiamo ricominciato una lenta ma concreta crescita ormai visto che siamo anche a luglio posso già anche dire che luglio si sta avviando verso una bellissima conclusione questo è davvero interessante perché mi fa prevedere ci fa prevedere un po tutto il settore una fine dell'anno una seconda parte dell'anno positiva certo mi sorprendono le tue parole perché ormai essendo che dal primo di luglio stiamo andando avanti con questa storia delle interviste e queste parole le ho già sentite insomma sembrava arrivasse un anno mostro soprattutto perché da relazionare al 2023 invece tutto sommato non è andata maccio insomma non vedo gente rilassata senti tra l'altro voi noi parliamo del settore elettrico ma non solo e voi agite su molti canali insomma e quindi hai da segnalarmi degli andamenti differenti secondo le varie situazioni ma allora sì ovviamente noi lavoriamo in ferramenta lavoriamo in edilizia lavoriamo nel canale elettrico lavoriamo in grande distribuzione abbiamo anche un canale estero quindi diciamo che ci sono delle differenze e chiaramente questo calo di cui parlavo ha riguardato il settore edilizia e tutto quello che c'è collegato quindi anche il settore rivendite e stranamente ma direi anche non troppo non ha riguardato il canale elettrico e però questo lo attribuisco noi già da un po di anni cresciamo in maniera importante nel settore elettrico a prescindere dalle contingenze di mercato perché stiamo conquistando quote di mercato e via via crescenti diciamo che quest'anno il primo semestre è stato forse una battuta di arresto a questa crescita quindi alla fine noi siamo attualmente e leggermente sopra anche alle vendite fatturate degli anni scorsi sul settore elettrico e paghiamo qualche punticino in edilizia le esportazioni vanno molto bene e in gdo paghiamo anche lì qualche cosa perché c'è stato un calo dei consumi abbastanza importante quindi c'è proprio la gdo è il termometro del consumo del privato e qui e qui si apre anche un discorso di di inflazione tassi di interesse tutta una serie di problematiche che hanno un po messo in crisi le famiglie italiane quindi se questo si è andato a unire a quello che è stata la crisi un po dell'edilizia però ecco diciamo che alla fine alla fine parliamo comunque di percentuali molto piccole più o meno uno più o meno due quindi parliamo di questo quindi sostanzialmente una stabilità ecco ho capito perfetto e non mi hai detto della ferramenta come è andata con loro allora la ferramenta la ferramenta è beh prima ho accenato alle rivendite le rivendite un piccolo contraccolpo ce l'hanno avuto parliamo sempre però di veramente di percentuali io dico irrisorie quando sono negative non sono non sono mai irrisori però ecco io rapporto sempre al mercato se il mercato mi fa meno 15 meno 20 io sono a pari sto contentissimo quindi voglio dire abbiamo fatto la nostra parte molto bene stefano grazie di essere rimasto dei tempi giusti e a questo punto abbiamo da parlare del prosieguo dell'anno e in questo caso ovviamente non sappiamo che succederà ma fino a un certo punto perché ad esempio se ti domando e io vi ho visto da parecchie parti in giro a quali manifestazioni parteciperete immagino di tu oramai debba saperlo portatamente anche perché da metà settembre in poi ci sarà da divertirsi in ogni maniera possibile immaginabile vero sì allora è sicuramente sicuramente ci sarà da divertirsi tuttavia noi con con gli eventi tra virgolette diciamo sì no ma sono sempre divertenti queste sono sempre costruttive e piacevoli noi tuttavia da settembre non contiamo di fare delle fiere non contiamo e spostiamo il tutto al 2025 per una serie di motivi compresa la riunione agenti compresa una serie di novità che stiamo portando avanti compresa quindi visto che ti vedevo il brico dei ti vedevo all'item building abbiamo allora all'item building partecipa alla capogruppo quindi noi non parteciperemo e per quanto riguarda il brico dei quest'anno abbiamo abbiamo deciso di soprassedere e investire in altra in altra maniera nel senso che quello che a noi piace è investire nelle fiere con i distributori nelle fiere diciamo che che danno oltre a essere una vetrina importante danno anche un segnale forte dal punto di vista proprio del nel mercato e per i nostri distributori quindi incontrati i vostri sostanzialmente ci sono delle fiere dove ci si incontra ci sono delle fiere dove si produce ecco questo è un po' questa è un po' la situazione ma quindi alle fiere dei distributori parteciperete o no? eh sì adesso vediamo un attimo avremo in forza qualcosa ma in questo momento non ti so dire esattamente i programmi li abbiamo per il 2025 perfetto perfetto allora a questo punto ti chiedo invece di parlare di prodotti eh hai già da darmi qualche anticipazione su quello che in me allora anche anche sui prodotti noi allora ci sono delle delle trovo sempre difficoltà su questa cosa dei prodotti perché perché noi cerchiamo di tenere nel cassetto ovviamente queste novità il più possibile perché perché è una cosa che ci fa anche piacere tu sai che però si si connota per una serie di produzioni d'eccellenza sull'industriale eccetera ma ultimamente ci siamo caratterizzati per produrre brevetti novità prodotti innovativi e quindi non mi puoi dire nulla puntualmente questi prodotti ci vengono compiati fa anche piacere ci vengono copiati fa piacere non fa piacere però insomma non è non è un problema questo però sicuramente meno meno diffondiamo le notizie meglio è posso dirti che ci saranno stiamo già ovviamente lavorando a numerosi progetti sia dal punto di vista dei prodotti brevettati e innovativi sia il rifacimento di alcuni prodotti brevettati che nel frattempo ci sono strati copiati e in particolare questo però è una è un progetto di medio periodo quindi non a breve e il rifacimento di intere categorie di prodotto che dopo aver rifatto gran parte della delle categorie spine prese adattatori industriali in particolare procederemo su altre situazioni svilupperemo e ancora di più il settore della quadristica e abbiamo visto che è un segmento dove noi riusciamo a soddisfare le esigenze dei clienti in tempi rapidi in maniera anche conveniente stiamo dando la possibilità di ai nostri clienti di avere una valida alternativa con la quale presentarsi sul mercato in maniera competitiva e conquistare dei lavori che altrimenti non riuscirebbero e questo comporta uno sforzo importante soprattutto dal punto di vista della progettazione perché i quadri andiamo su una personalizzazione sempre più spinta ma se ti specializzi è un settore che ha una c'è una domanda fortissima e a questo proposito noi in questo periodo diciamo in quest'anno un po di transizione se vogliamo dire abbiamo cercato di investire di lavorare sull'azienda sicuramente sui prodotti ma anche proprio sulla struttura aziendale solo nel settore commerciale da inizio dell'anno abbiamo assunto tre persone nuove con funzioni importanti di promozione tecnico commerciale un responsabile di canale e da settembre partirà un area manager per una zona e quindi stiamo strutturandoci anche dal punto di vista commerciale altri investimenti sul marketing stiamo facendo degli sforzi importanti e per questo siamo un po proiettati in avanti perché c'è proprio un piano un piano che stiamo portando avanti per comunicare anche di più all'esterno questa nostra nuova nuovo corso diciamo della rosi e i prodotti naturalmente continuiamo a svilupparli costantemente abbiamo assunto nuove persone dell'ufficio tecnico e progettazione quindi non abbiamo perso tempo ecco abbiamo affilato le lame come si suol dire nel mentre ho capito va bene grazie a questo punto stefano stecanella per averci raccontato il 2024 di rosi ci sentiremo ovviamente in autunno per verificare se le verità che è detto si sono concretizzate insomma io ti auguro buone vacanze buon lavoro a tutti voi e ti ringrazio grazie Giancarlo buone vacanze anche a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltati arrivederci